Mentre si continua a discutere del reddito di cittadinanza, il Popolo della Famiglia a Milano lancia la proposta del reddito di maternità. Sentiamo Mario Adinolfi. Il reddito di maternità è la proposta del Popolo della Famiglia per dare 1000 euro al mese alle mamme che decidono di dedicarsi in via esclusiva alla crescita dei figli e al sostegno dunque al lavoro familiare. Vogliamo rendere centrale la donna madre e ricordare che la donna che si impegna in casa e lavora in casa non è una donna di serie B, è una donna lavoratrice a tutti gli effetti.